Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon giovedì 9 settembre, è tornato il sole questa mattina a Torino, si sono alzate anche un po' le temperature rispetto ai giorni scorsi, tra poco vedremo il clima che ci aspetta nella giornata di oggi, intanto andiamo a sentire le notizie di viabilità e come sempre lo facciamo collegandoci con Walter Gerbi dalla Centrale Operativa dei Vigili Urbani, Walter a te. Le notizie di oggi, in collegamento con la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon giovedì 9 settembre, le notizie di oggi, dalle 8 alle 12, celebrazione e fine Ramadan all'Arena Continassa di Strada Druento, controllo a velocità sui corsi Grosseto, Tazzoli, Galileo Ferraris, Marche, Vercelli, Cosenza e in via Botticelli. Continua la manifestazione estiva in Piazza d'Armi, sino a domenica, sino al 20 settembre al Parco Ruffini, una festa del Partito di Fondazione Comunista, sino al 13 settembre al Parco Carrara, una manifestazione dell'Assemblea di Dio in Italia e Missione Evangelica Zvigana, sino al 4 ottobre presso l'ex manifattura tabacchi di Corso Reggio Parco, immatricolazioni Università degli Studi di Torino, ai Giardini Reali e parti di Piazza Castello, sino a domenica, la festa nazionale del Partito Democratico, Luna Parco Autunnale al Parco Ruffini, sino al 24 settembre la quarta edizione di Mito Settembre Musica. Da stasera in serate e località diverse, Largo Saluzzo, Piazza Cerignola, Piazza Bottesini, cinema in strada, riprese cinematografiche del film il giorno in più, sino alle ore 7 di domani, lavori AES in via Candiolo all'altezza del civico 34, nella notte prossima, dal 1 alle 3, la consuetta chiusura del sottopasso Lanza, Corso Massimo d'Azeglio per operazioni di pulizia meccanizzata, semafori in manutenzione in Piazza Borromini e sino a domani, vigili in centro incrocio, in Corso Cosenza, angolo via Tripoli, Darborea e Gorizia. È tutto, buona giornata, buon viaggio! Bene Walter, grazie con le notizie di viabilità, noi passiamo a vedere la situazione del tempo, vi dicevo che è tornato il sole questa mattina a Torino, qualche nube è ancora possibile, ma di fatto la giornata di oggi si preannuncia come serena, abbiamo temperature nell'ordine dei 20 gradi e qualcosa in più a livello di temperatura percepita a quest'ora del mattino, ieri eravamo intorno ai 17, quindi si è alzata ulteriormente, abbiamo un po' di vento che proviene da est-nord-est, questo ci porterà, come detto, possibilità di qualche nuvola, ma niente che possa turbare il sole di quest'oggi, temperature massime della giornata prevista intorno ai 23-24 gradi. Ora passiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per oggi, vi segnalo che oggi riprendono una serie di attività delle commissioni consigliari, in preparazione al Consiglio Comunale che riprenderà le sue sedute nella giornata di lunedì prossimo, questa mattina poi altri due eventi da segnalare, alle 10 il Politecnico, l'assessore Levi porterà il saluto della città al convegno Thinking Pot, e alle 11.30 invece è prevista una visita del sindaco e degli assessori competenti al cantiere della stazione di Porta Susa e della nuova stazione di Porta Nuova. Andiamo a vedere Torino Click, l'agenzia quotidiana della città con le notizie dell'ufficio stampa e rapporti con i media, abbiamo scelto due notizie nell'edizione pubblicata ieri dai colleghi dell'ufficio stampa, la prima riguarda un'iniziativa che ci sarà questo weekend a Torino, da venerdì, da sabato e domenica, in Piazza San Carlo, Via Roma e Cavallerizza Reale ospiteranno la cosiddetta Torino Street Style, un'iniziativa dedicata ai gruppi e alle associazioni che praticano i cosiddetti sport di strada, quali sono, si intende, la ruota di Ron, lo skate, il bike polo, lo street golf, le BMX, il frisbee, eccetera. Saranno due giorni dedicati a chi pratica questi sport e a chi eventualmente si è interessato ad avvicinarsi a queste discipline. Da segnalare nell'ambito di queste due giornate la Vertical City Race, ovvero una prova che si articolerà in un percorso cittadino, fluviale e collinare di circa 40 chilometri che impegnerà degli atleti giovani che si organizzeranno in sei discipline, tra cui la corsa, l'arrampicata, il kayak sul fiume, eccetera. Momento clou della gara sarà un'arrampicata della Mole Antonelliana sabato dalle 17.30 alle 18.30. Trovate i dettagli nell'articolo di Torino Click. L'altra notizia riguarda sempre un'iniziativa che caratterizzerà la nostra città nel weekend. Questa comincia però domani, nella giornata di venerdì fino a domenica, al circolo scacchistico Alfieri ci sarà la decima edizione del Festival Piemonte Scacchi Memorial Bombelli. Il ponte premi di questa edizione è di 1.100 euro. Inalterata la formula del torneo rispetto alle precedenti edizioni, ci sarà un open integrale in 5 turni di gioco. Tempo di riflessione, 90 minuti, a cui si aggiungono 30 secondi a mossa a partire dalla prima. I dettagli, se vorrete partecipare, li trovate sull'articolo di Torino Click. Ora andiamo sulla home page del sito della città, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, tra quelle pubblicate sulla nostra prima pagina. La notizia è sempre valida, è quella dell'appello del sindaco Chiamparino, in quanto presidente del Lanci, per salvare la vita di Sacchinè. Si è aggiunto rispetto alla giornata di ieri la decisione della Giunta di illuminare la mole antonelliana nelle prossime giornate con la frase salviamo Sacchinè. Trovate i dettagli a partire dal comunicato stampa che è collegato dalla nostra home page. Un'occhiata al traffico, andiamo a darla con le telecamere del Consorzio 5T, qui siamo in Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza, direzione sud su Corso Agnelli, come vedete traffico sostenuto e un'attesa abbastanza prolungata al semaforo. Qui siamo in Piazza Derna in direzione sud, quindi in direzione del centro cittadino su Corso Giulio Cesare, situazione abbastanza tranquilla nell'ingresso alla Rotonda, qui invece siamo alla Rotonda Maroncelle, abbiamo cambiato zona, siamo a sud su Corso Trieste, situazione abbastanza complicata al momento, ma è normale a quest'ora del mattino in quella zona. Infine chiudiamo con Corso Vittorio Emanuele, direzione est, all'incrocio con Corso Massimo, come vedete qui la situazione è tranquilla, non ci sono particolari problemi. Bene, è tutto anche per questa mattina, da parte mia da Mario Parena che ha messo in onda il giornale, l'augurio di una buona giornata.